Renexia, società del gruppo Toto attiva nel settore delle rinnovabili, esprime soddisfazione per aver sottoscritto insieme al ministro del Made in Italy Adolfo Urso e Ming Yang, uno dei principali produttori al mondo di turbine eoliche, un Memorandum of Understanding finalizzato alla costituzione di una GNUCO che gestirà un sito produttivo per la fabbricazione di turbine eoliche in Italia grazie a un investimento di 500 milioni di euro. Qui verranno prodotti e assemblati componenti fondamentali per la realizzazione di MadWind, il più grande progetto di impianto eolico offshore floating del mar Mediterraneo, a largo delle coste trapanesi e per cui Renexia ha presentato lo studio di impatto ambientale dopo una vasta serie di approfonditi e accurati studi di fattibilità ambientale ed economica durati anni e che hanno richiesto un investimento rilevante. Si tratta di un piano di sviluppo importante, è stato ribadito perché il grande progetto siciliano rappresenta l'innesco ideale per la creazione di una filiera industriale dell'eolico sia offshore che onshore, ad oggi non presente in altri paesi che renda l'Italia un punto di riferimento internazionale in un settore industriale dalle elevate potenzialità. Desidero ringraziare il Ministro Urso per la fiducia che ci ha accordato e per aver creduto nel nostro progetto. La partnership siglata ci consentirà di realizzare una catena di valore che coinvolga anche le imprese nazionali in ambito eolico offshore galleggiante all'interno dei nostri confini. In questo modo offreremo un valido contributo per centrare gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e per sostenere il Piano Mattei, commenta Riccardo Toto, direttore generale Renexia. La soluzione proposta da Ming Yang, con cui Renexia ha già collaborato per la realizzazione a Taranto del primo e ancora unico parco eolico marino del Mediterraneo, consiste nell'utilizzo di una turbina con una potenza che consentirebbe di ridurre il numero di aerogeneratori previsti per Mad Wind. Due saranno i vantaggi di questa scelta, la riduzione dell'impatto ambientale e dei costi della manutenzione. La nuova società, costituita inizialmente da Ming Yang e Renexia, avrà l'obiettivo di individuare la riedonia d'intesa con il governo entro 90 giorni. L'occupazione è prevista di circa 1.100 risorse e lo step successivo, grazie all'impegno del Ministero, sarà quello di sostenere l'ingresso nell'azionariato di nuovi soggetti italiani e favorire investimenti anche internazionali. Il Presidente Marsiglio è stato presente agli incontri preliminari con il Ministro Adolfo Urso per illustrare i contenuti del progetto. Renexia ha avviato un'interlocuzione diretta e questo è da sottolineare per inserire tra le possibili locazioni del sito di produzione delle turbine eoliche anche l'aria prossima al porto di Urtona, un investimento che porterebbe in Abruzzo e in 1.100 posti di lavoro e importanti investimenti anche internazionali per lo sviluppo di una filiera industriale per l'eolico offshore e onshore, una filiera attivata dal grande progetto di Renexia, come detto, per il canale di Sicilia, ma che possa essere in grado di sostenere sia gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, sia il Piano Mattei per l'Africa, con i paesi del Maghreb che si stanno aprendo alle energie rinnovabili e all'eolico onshore in particolare.